Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. La 5 Phil Cup siamo passati al terzo turno perché dopo il secondo turno la classifica è rimasta invariata. Ma ci aspetta una partita incredibile e credo che lo abbiate capito dal titolo. Di Bianco il più famoso vice campione del mondo della storia. Di Nero il fortissimo, il preparatissimo, olandese Anish Giri. E allora like al video e partiamo subito perché Nepo di Bianco apre con D4, Anish Giri risponde con cavallo in F6, arriva C4 e poi E6 e il russo non si fa scrupolo di giocare cavallo in C3. E allora dopo Alfiere in B4 siamo nell'inizio indiana. Come lo affronta Nepomnish? Giocando E3, che è la variante principale, Rubistein. E allora Giri a Rocca corto. Alfiere in D3, linea principale e qui arriva la prima sorpresa perché Nepo con il pedone attacca subito l'Alfiere. E allora Alfiere per cavallo in C3 con scacco, il pedone B ricattura. C5, mossa largamente più giocata, sicuramente ottima. D6 che cosa fa? Controlla delle case importantissime e adesso non solo la spinta C5 ma anche la spinta E5 nelle carte del nero, in qualche modo si è anche liberato l'Alfiere Campochiaro. E pensate, questa D6 suggerita anche dal computer nella pratica dal nero, risultati migliori rispetto al C5. E allora come continua Nepo con F3, quindi come nella Semish vuole occupare il centro spingendo in E4, a questo punto come dicevamo E5 probabilmente la mossa migliore e ve la faccio vedere. Come mai? Perché dopo E5, naturalmente qui catturare vorrebbe dire sciupare totalmente la struttura pedonale e allora ci vorrà E4 e qui cavallo in H5, queste non sono mosse da computer ma questa è l'idea giocata quest'anno da Dominguez Perez, vincente di nero contro Shankland. Alfiere in E3, mossa migliore e la spinta F5 con il nero particolarmente aggressivo. Quindi un'idea da tenere a mente. Scusate, dopo F3 invece cosa gioca Ghiri? Un'altra mossa ottima, lo sviluppo del cavallo in C6 e allora arriva E4, una sola partita rimasta in database tra due giocatori titolati vinta dal bianco lo scorso anno. Il nero aveva giocato E5, rimane ottima l'idea di cavallo in H5, invece arriva la novità di Ghiri, donna in E8 e dopo 8 mosse la partita diventa originale. Fuori di testa totalmente la risposta di Nepo, che come vedete non ha ancora nessun pezzo sviluppato. Non lo sviluppa neanche adesso, perché spinge il pedone in H4. Nero sicuramente in vantaggio, B6 per giocare l'alfiere in fianchetto, arriva addirittura H5. H6 è giocabile e forse andrebbe anche giocata, ma forse l'olandese viene spaventato dall'idea G4-G5. Allora gioca alfiere in A6, si inizia ad attaccare il più avanzato dei pedoni doppiati, torre in A2 per il trasporto della torre addirittura sul lato di Re, cavallo in A5, il pedone cadrà. Arriva G4, donna in C6, connette anche le torri, torre in G2 e vi dico la verità, non ho mai visto a tempo lungo una nimso indiana del genere. E allora alfiere per pedone, e qui si minaccia di catturare ancora, e allora alfiere per alfiere, la donna ricattura, attacca il pedone con scacco, cavallo in E2 lo protegge e se non altro libera anche la seconda torre. E allora cavallo in D7 evita che G5 arrivi con tempo, ma G5 in epoda gioca lo stesso e arriva E5. La risposta al centro è la risposta migliore contro un attacco su un lato, Nepo va a spaccare tutto, mossa da biliardo. G6, pensate c'è una sola mossa, guardate la barra, nero in vantaggio ma c'è una sola mossa che lascia Ghiri in vantaggio e ve la faccio vedere. Questa mossa è H6, non giocata dall'olandese in partita, come mai non l'ha giocata, gli ha fatto paura il sacrificio. Alfiere per pedone, il pedone ricattura, donna in D2, ma arriva re in G7. Il pedone cattura scacco di scoperta, il re si sposta, la donna cattura in H6 ed invade, ma guardate che succede. re in E8, la torre è protetta incredibilmente, ha voglia di dare scacchi. Il re riuscirà a scappare in B7 con il nero in vantaggio. E invece dopo G6 perde la testa Ghiri, cambia i pedoni, F per G6, sciupa tutto, perché il pedone H ricattura, torre per pedone, ma il pedone G cattura in H7 con scacco. Allora il povero re costretto nell'angolo, raddoppio delle torri ad attaccare il pedone in G7, la torre di Ghiri deve tornare indietro, sono passate 20 mosse. Nepomni si trova una mossa spaziale. E noi siamo arrivati al nostro quizzone. Cosa giochereste al posto del bianco? Mettete pure in pausa. E da voi la parola. Ritorniamo a noi. Alfiere in H6 in presa, mossa da circoletto rosso. E come mai? Perché non si può aggiungere nessun difensore, nessun difensore, a questo pedone in G7. Men che meno, men che meno, si può catturare col re. Perché guardate, se il re cattura non giocata da Ghiri, l'alfiere ricattura, scacco di torre, c'è il matto forzato. E allora, l'unico modo per rimanere in partita è accettare l'alfiere, G per H6, torre in G8 con scacco, il re deve catturare e praticamente Nepo vince la qualità. La continuazione più corretta in questa posizione quale sarebbe? Sarebbe donna in C6 che attacca la torre. Perché ricordiamoci, pezzo sospeso in territorio avversario è sempre un bersaglio tattico. E dopo torre in C8 per attaccare il pedoncino e qui gli vuole spaccare la struttura pedonale. Donna in B7, idea migliore, raddoppio delle torri e adesso sì, e adesso sì, donna che cattura al centro, torre in H8 con scacco, re in G6, di nuovo scacco e qui non si può rischiare di farsi spaccare tutta la struttura. Bisogna ritornare indietro, sperare nella patta. Naturalmente la torre non può catturare perché sta proteggendo l'altra torre e probabilmente si andrà avanti con lo scacco perpetuo. Invece che succede? Succede che Giri gioca a cavallo in F6 e questa mossa è sicuramente sbagliata. Guardate come ne approfitta Nepo. Di per E5 e qui si può catturare? No davvero, tant'è che Giri non lo farà perché dopo donna in D8 il matto è forzato. E allora il cavallo cattura in E4 donna in C1 e ora? Cavallo in G5 vuole bloccare l'azione della torre ma arriva un colpo tattico micidiale perché Nepo cattura cattura il cavallo con la torre e non si può riprendere subito perché se no dopo la cattura di donna lo scacco micidiale di donna da dietro vince la partita e allora bisogna che Giri rimetta in gioco la donna che sembrava fortissima già in C4 donna in H4 con scacco torre in G3 donna in H1 con scacco di nuovo protetta dal cavallo la torre torna indietro in G1 vince è vero l'altra torre e quindi riprende la qualità ma qui troppo forte il contrattacco di Nepo donna in C2 con scacco re nell'angolo in H8 donna in G6 attacco doppio donna in F8 protegge tutto ma naturalmente vedete il nero è passivo il bianco è attivo micidiale stupenda semplice questa bella mossa naturale di pedone E6 torre in E7 stoglie dall'attacco e lo blocca e allora torre in H1 per attaccare il pedoncino torre in H7 doppia protezione torre in F1 attacca la donna donna in D8 è arrivata all'invasione di torre torre in F7 torre per torre il pedone ricattura donna in F8 blocca il pedone e protegge il suo donna in F6 con scacco re in H7 qual è l'unico pezzo che non fa niente? il cavallo cavallo in F4 c'è già il matto forzato perché sta arrivando cavallo in E6 che attacca la donna sulla casa di promozione non si riesce neanche a giocare donna in G7 perché naturalmente il bianco le donne non le cambia e guardate cosa fa? scacco di donna re in H8 e il pedone va a donna micidiale vittoria di Nepo che si porta primo in classifica con Firuja vi faccio vedere la classifica sarà una 5 field cup veramente eccezionale noi naturalmente continueremo a seguirla io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto spero che la partita vi sia piaciuta e noi naturalmente ci vediamo lunedì con un nuovo video a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti